definendo un oggetto dado in questo modo esso viene costruito sullo stack come molti di voi sapranno, immagino lo stack è un'area di memoria speciale non che sia fisicamente separata dalla RAM è una part della RAM che è dedicata a un certo scopo quello scopo, tra le altre cose, è quello di contenere in modo dinamico le variabili locali di una procedura di una funzione, di un metodo i parametri che riceve tenere traccia delle chiamate delle funzioni che possono chiamare prima di interrompersi altre funzioni e quindi devono essere messe per così dire in pausa cioè salvare il loro stato queste funzioni a loro volta ne possono chiamare altre e così via questo meccanismo delle chiamate di funzioni a percussione è particolarmente evidente ad esempio quando andiamo a trattare di ricorsione dove il meccanismo di base è appunto quella della funzione che ripetutamente chiama se stessa 50 chiamate annidate significa che avremo in un certo istante nella memoria 50 blocchi di RAM ciascuno dei quali memorizza lo stato della funzione ma anche del processore al momento di cambiare contesto e andare a eseguire il codice di un'altra funzione o al limite della stessa ma con differenti parametri lo stack è sicuramente utile perché quando lo spazio utilizzato per una funzione che termina non serve più viene recuperato e questo è il suo punto di forza ma anche un potenziale rischio per noi e ve ne darò un esempio tra pochi secondi l'altro problema è che la quantità di RAM allocata per lo stack è di solito predeterminata è abbastanza limitata per cui dovessimo darci dentro in modo esagerato con vettori con un numero degli eventi molto elevato se poi la funzione viene richiamata più volte ecco potremmo veramente mettere in difficoltà il meccanismo che utilizza lo stack fino al vero e proprio crash del programma e una volta anche il crash dell'intero sistema operativo ma anche immaginando di essere bravi di aver calcolato correttamente le necessità di spazio dicevo poc'anzi che c'è un rischio comunque potenziale nascosto immaginiamo di voler implementare un metodo per la nostra classe dei dadi in grado di clonare un dado quindi per qualche motivo ad un certo punto nel gioco si vuole fare una copia esatta di un dado che già esiste e quindi chiameremo un metodo proprio a questo scopo e siccome ci teniamo le prestazioni non vogliamo restituire una copia creata al volo del dado stesso per cui il metodo che ho chiamato poi clona ovviamente pubblico mi restituisce un puntatore dovete per forza imparare i puntatori se volete lavorare a un certo livello con la OOP in C++ non ci si scappa quindi nel caso andatevi a rivedere con calma quelle parti, la playlist dove affronto la tematica pointers non pretendo fino a far la parte sulle liste concatenate eccetera al limite vi servirebbero per comprendere bene l'utilizzo dei puntatori dicevo il metodo restituirà non il dado clonato stesso con il meccanismo del return che ne farebbe una copia ulteriore ma il suo indirizzo cioè l'indirizzo della copia del dado clonato la cosa diventerà un pochino più chiara andando a vedere effettivamente quello che fa qui nella classe dado il metodo clona quindi è un dado pointer perché restituisce un puntatore e poi dado clona definisce un nuovo dado con una locazione sullo stack come abbiamo fatto finora come numero di facce fornisce in ingresso al costruttore lo stesso numero di facce del dado in cui sono lo sto clonando deve avere lo stesso numero di facce vi ricordo che il numero di facce è appunto una variabile dello stato interno del dado ma anche il valore int valore deve essere lo stesso come se fosse stato lanciato come il primo altrimenti non sarebbe un suo clone quindi sfrutto il metodo setter set valore impostando lo stesso valore sempre che ho nel dado che sto clonando poi restituisco l'indirizzo di questo dado appena creato capite la differenza? io avrei anche potuto decidere di far restituire non il puntatore al dado clonato ma il dado clonato stesso o meglio la sua copia qui non più l'indirizzo ma return il dado clonato questo però farebbe pagare al tutto un prezzo in termini di performance perché deve costruire il return praticamente una copia del dado che io sto indicando viceversa in questo modo apparentemente ottengo lo stesso risultato e non perdo nessun tempo a fare delle copie in memoria di oggetti lo creo restituisco l'indirizzo è perfetto anzi di solito si fa così piccolo particolare non funziona infatti se andiamo nel main e andiamo a clonare il dado il dado di 2 che abbiamo appena lanciato qua sopra dichiarando un puntatore a un dado un dado pointer di 3 gli assegno il risultato della clonazione cioè l'indirizzo del dado clonato ma se mandiamo un'esecuzione visto che qua sotto in teoria sto chiedendo qual è il valore del dado clonato deve essere lo stesso del dado del valore che è uscito per il lancio del dado appena sopra e invece scopriamo che il valore di 2 è 3 ma del suo clone invece è 0 qualcosa è andato storto quel qualcosa è che quando una funzione quindi un metodo termina lo spazio che utilizzava sullo stack per le sue variabili e quindi anche quello usato per questo dado chiamato copia viene restituito al sistema operativo come dire non mi serve più o meglio ritorna a disposizione nello stack per altre chiamate di altre funzioni dello stesso processo in esecuzione e questo è un bel problema perché io do un indirizzo che poi in partenza potrebbe contenere i dadi del dado clonato ma poi appena succede qualche cosa nel programma diventa imprevedibile il contenuto perché il sistema lo utilizzerà per le cose più disparate è completamente inaffidabile la soluzione porta ad introdurre quello che è uno dei meccanismi più utilizzati quando si lavorano con gli oggetti e che va ad esaltare la loro dinamicità raramente si vanno a creare oggetti sullo stack o quantomeno dobbiamo alla pari saperli creare fuori dallo stack in quell'area di memoria chiamato lo hip che invece non ha nessun problema di dimensioni se non quelle fisiche della ram a disposizione anzi un po' di più perché se andiamo a tirare in ballo anche la gestione virtuale potremmo utilizzare anche il disco come estensione più lenta ma funzionante quindi come mi avete visto fare nelle lezioni sulle liste concatenate non andremo più a creare dadi in questo modo ma in modo dinamico quindi chiamando il new e usando dei puntatori allora copia diventa un puntatore un dado quindi un dado pointer copia è uguale gli assegno un new dado numero faccia quando viene creato così un oggetto va a finire nello hip la gestione dinamica io ottengo indietro l'indirizzo dell'oggetto appena creato e in quanto tale non può essere memorizzato in un dado copia ci vuole per forza il dado pointer quindi copia è un puntatore conterrà l'indirizzo del dado creato in modo dinamico sullo hip e se ricordate a questo punto non posso più utilizzare la notazione punto perché copia non è una variabile ma un puntatore ma la freccetta vuol dire usa l'indirizzo del dado contenuto in copia vai all'oggetto indirizzato chiama su quello il metodo set valore sono notazioni con le quali dovete diventare per forza pratici altrimenti non ha senso continuare e qui c'è un altro cosino da aggiustare perché copia è già un indirizzo quindi non devo restituire l'indirizzo dell'indirizzo ma copia e basta vuol dire restituisco copia che è un indirizzo abbiamo detto qua è un dado pointer aggiustiamo anche questo era già posto sì perché era un dado pointer anche prima e qui vediamo un po' anche qua dobbiamo no va bene anche qui qua ok a posto vediamo ora cosa succede rilanciando l'applicativo il valore di 2 era 1 lo clono e quindi anche il valore del dado clonato è 1 stavolta ci siamo e qui si comincia a capire perché il C++ come linguaggio di programmazione sia considerato difficile perché quando si vanno a gestire queste cose bisogna andare con i piedi non di più di più per cui è facilissimo commettere errori che a volte non vengono neppure segnalati perché vengono dei cast automatici e alla fine si ritrova con un programma che si comporta in modo strano in certe situazioni ed è difficile capire il perché ad esempio questo se lo mettessi in commercio sarebbe una vera bomba ad orologeria sapete perché? magari come libreria per fare games quando avete bisogno di dadi usate la mia mega libreria che contiene tutto quello che serve per i dati peccato che ci sia dentro un errore potenzialmente devastante perché se è vero che per quello che si voleva fare prima il fatto che l'oggetto dado creato sullo stack venisse automaticamente eliminato al termine del comando clona qui ci ritroviamo con un problema contrario stiamo usando della RAM ma chi la libera? cioè se quando il dado non serve più nessuno lo distrugge questo dado clonato quello che adesso abbiamo agganciato qui quindi il blocco di memoria puntato da D3 allocato dal metodo clona rimarrebbe in eterno ad occupare quella parte della RAM e qui naturalmente è irrisorio è irrisorio lo spreco ma se immaginate la stessa situazione in contesti in cui gli oggetti creati sono magari di mega o decina di mega e dovrebbero essere distrutti quando non servono più qui nessuno lo sta facendo anche perché non c'è nulla che svolga questo compito così come abbiamo dotato le classi di costruttori dovremo dotarle di distruttori ma di questo parleremo nel prossimo video